un mese dove le giornate sono più lunghe un mese dove vogliamo vivere all'aria aperta e dove possiamo come sempre ascoltare l'oroscopo e l'almanacco primo giugno ciao da Mauro oggi è San Giustino auguri compleanni a chi addò di battaglia il musicista il chitarrista dei pu nato il primo giugno nel 1951 e poi abbiamo la nostra orietta nazionale orietta Galimberti o meglio Berti nata il primo giugno nel 1943 frase di oggi e poi arriviamo all'oroscopo scherzando intorno al lume che ti invita farfalla attenta perderai le ali e la vita ariete riuscirete in barba a distrazioni interruzioni richieste di pareri e perdite di tempo a portare a termine un delicato lavoro in maniera più che soddisfacente e a meritarvi le lodi e le ammirazioni di chi di dovere toro la vostra personalità vi fa dei soggetti dolci in grado di distribuire la propria serenità a piene mani sareste il partner ideale di una persona nervosa che vi fa la corte il fatto è che lei non fa al caso vostro gemelli frequentate di più una persona nativa del segno del cancro che sta uscendo a fatica dalle secche di una passività paralizzante e che può insegnarvi qualcosa con un gemelli è possibile una profonda amicizia mentre dovreste stare molto attenti ad uno scorpione cancro rimandare una decisione non vorrà dire arrendersi vorrà dire che se ora non siete sicuri dei mezzi che avete a disposizione non sprecherete a vuoto una buona occasione che il vostro talento vi ha messo a disposizione leone plutone vi vuole manovrieri e un po più spregiudicati nella gestione delle cose di famiglia che tutti i membri del clan hanno affidato alle vostre cure non potevano metterle in mani migliori e più accorte vergine non trascurate la salute anche se la lunga permanenza di giovane il segno a questo proposito ha smorzato ogni eccesso rischiate di passare però dalla parte opposta cioè di non curarvi affatto rimediate consenso della misura bilancia nessuno oggi oserà ostacolare il vostro volere oserà derogare dalle vostre indicazioni o prendersi libertà perché per il pungolo che marte rappresenta avete la grinta giusta per imporvi su qualsivoglia concorrente scorpione un pizzico di romanticismo in più un tocco di tenerezza un regalino buffo e parolini dolci sussurrati all'orecchio e l'amore e le sue dolci tentazioni oggi la faranno da padrone sagittario occupatevi più da presso dei piccoli del segno che non sono al top né fisicamente né sotto il profilo dell'umore e della forma indagate se a preoccuparli c'è qualche problemino scolastico di cui non hanno fatto parola capricorno sul lavoro non lasciate correre una questione di principio che deve essere risolta prioritariamente ribadire la vostra presa di posizione contribuirà oltretutto a costituirvi un'immagine retta e a darvi quindi fama di integerrimi acquario non tutti si sentiranno felici dei vostri successi non tutti vi amano anzi c'è chi trama alle vostre spalle per nuocervi e sminuirvi agli occhi di chi vi guarda con ammirazione non agevolatene il gioco con troppa ingenuità pesci se state cercando un lavoro se avete intenzione di cambiare occupazione sarebbe meglio che attendeste l'autunno per passi definitivi in questo senso in precedenza curate la preparazione teorica e la parte organizzativa grazie a tutti